Il Soccer Champions Tour del Milan si chiude con la terza grande sfida della tournée estiva dopo Real Madrid e Juventus tocca al Barça di Xavi, campione di Spagna in carica. Vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione ben ritrovati da parte di Luca Brivio dall'Eligent Stadium di Las Vegas, Nevada, dove termina il nostro viaggio sulla Route 66 di questa estate 2023. Per sapere se sarà una notte da leoni, non resta che vivere insieme anche i prossimi 90 minuti. Benvenuti a Milan-Barcellona! Cross di Rafinha, primo palo, lo mette fuori in due tempi, Pulisic male però. Ancora il tiro di Koundé, palo, poi Milan che si salva con fortuna su questo attacco del Barcellona. Ha preso il palo il numero 23, Koundé, con un raso terra, colpo sicuro che aveva superato Mike. Precupera palla bene Florenzi, ancora Milan, Loftus-Cic, scambia bene con Giroud, superiorità numerica, Reinders era di rigore, il tiro di Reinders, la parata di Peña, ma qui la prima occasione, la prima risposta del Milan. Arriva con l'azione in percussione di una mezzala, in particolare qui di Tijani Reinders. Palla su Ferran, seguito da Tomori come un'ombra, poi si butta nello spazio Ferran, si accentra Rafinha, sinistro potente, messo in corner da Mignon. Non c'è fallo, per una volta un intervento un po' troppo leggero, qui Leao senza pietà, prova ad andare su Koundé, lo salta bene Leao, era di rigore il tiro parato. Dai Gnacchi-Pegna, minuto 43, era rimasto a terra, forse Pedri, mezzo al campo, Leao come vi dicevo senza nessun tipo di remora, è andato dritto per dritto in porta, recupera il pallone che è già giocato da Balde, parte velocissimo, Alejandro Balde, Ansufati, area di rigore, attenzione al possibile tiro e ha un gol strepitoso del Barcellona con Ansufati che ha indovinato il tiro all'incrocio dei pali, destro imparabile per Mignon, palla all'incrocio e vantaggio del Barcellona. Leao se ne va in area di rigore, grande giocata di Leao, il tiro di Reinders, qui probabilmente la stanchezza vista offuscata per Reinders che sbaglia un gol praticamente fatto, giocata eccezionale di Leao. Attenzione al Barca che punta l'area di rigore, Balde in mezzo per Fati, salva tutto, Bartesaghi, grande intervento. Barca che vince per 1-0 con gol di Ansufati, per noi dalla Sveca se è tutto, un abbraccio, un saluto e sempre forza vecchio cuore rossoniero. Leao! Leao!